Capitolo 13. Cerchiamo roba morta al mercato agricolo. Grover era entusiasta. «Viene Blanche!» si accarezzò le corna caprine come per assicurarsi che non fossero storte. «Sono a posto!» indossava pantaloncini cargo con scarpe da tennis sugli zoccoli. Travestimento minimo affinché gli umani pensassero «quel ragazzo ha bisogno di depilarsi le gambe e non quel ragazzo è una mezza capra». Sopra portava una specie di maglione verde lavorato a mano con motivi di alberelli che quasi certamente gli avevano confezionato le driadi per la giornata degli alberi. «A postissimo!» dissi. «E comunque, Grover, si tratta di Blanche!» lo rimproverò Annabeth. «Non è mica la tua ragazza!» Grover in effetti aveva una ragazza, Juniper, che non sarebbe stata affatto contenta di vederlo così agitato. «No, lo so!» arrossì fino alle radici del pizzetto. «È solo che è un'artista così brava!» «Ci risiamo!» borbottai. «È così cool!» «Stiamo parlando della stessa Blanche?» chiesi. «Zitti!» Annabeth sbirciò lungo la Broadway. «Sta arrivando!» Blanche, figlia di Iride, portava un trench color notte, jeans e anfibi, il tutto abbinato a un make-up che le faceva brillare gli occhi come diamanti neri. La testa era rasata, a eccezione di uno scignon biondo platino sulla nuca. Al collo aveva appesa una macchina fotografica Nikon delle dimensioni di una scatola da scarpe. «Wow!» esclamò guardandosi intorno. «Quartieri alti!» strizzò gli occhi come se trovasse l'upper west side troppo luminoso, troppo aperto, troppo rumoroso, troppo tutto. Vivendo a Soho probabilmente aveva dovuto farsi timbrare il passaporto per arrivare così a Nord. «Un sacco di cose da fotografare!» esclamò Grover appoggiandosi non poi così casualmente a una cassetta postale per offrirle il profilo. Blanche sembrava più interessata al piccolo albero moribondo nell'aiuola spartitraffico. «Quello sta murendo! È fantastico!» tolse il copriobiettivo della Nikon e iniziò a regolare la messa a fuoco. «Io e Annabeth ci scambiamo un'occhiata!» «Davvero?» le chiese in silenzio. «Sì paziente!» mi rispose con lo sguardo. Avevo sentito che proprio in quei giorni Blanche stava tenendo una personale in una galleria di Tribeca. Le sue fotografie di foglie secche, ceppi d'albero marcescenti e carcasse di animali investiti, rigorosamente in bianco e nero, venivano vendute a un migliaio di dollari l'una. Era Lance e l'Adams della natura morta e, dopo il nostro ultimo falò, Grover era rimasto così impressionato che aveva deciso di farsi fare un ritratto da regalare a Juniper. «Cos'è successo a quel falò?» vi state chiedendo? «Storie di fantasmi» è una tradizione. Con sorpresa di tutti, Blanche si era offerta volontaria per raccontare l'ultima della serata. Di fronte a una settantina di semidei e con una torcia sotto il viso per essere il più inquietante possibile, si era lanciata nel racconto di un semidio morto anni prima, un figlio di Morbus, il dio delle malattie. Presumibilmente quel ragazzino non stava simpatico a nessuno al campo, perché… beh, per le malattie, no? Alla fine era deperito per non so quale terribile infezione, ma prima di morire aveva scagliato una maledizione sul campo mezzosangue. Chiunque avesse camminato sulla sua tomba sarebbe sbiadito, sarebbe andato incontro a una dolorosa decomposizione e si sarebbe sgretolato fino a dissolversi. Per tentare di sfuggire alla maledizione, i ragazzi del campo ne avevano bruciato il cadavere e disperso le ceneri. «Ma non è servito», aveva concluso Blanche, «perché il luogo dove era stato bruciato equivaleva alla sua tomba. E quella tomba è proprio qui!» Aveva puntato la torcia su di noi. C'eravamo guardati intorno, spaventati e abbagliati, e c'eravamo resi conto che eravamo sbiaditi. Tutti i presenti erano diventati monocromatici, come i vecchi cartoni animati in bianco e nero. Ci furono urla, pianti e corse in tondo, o perlomeno è quello che feci io. Altri semidei uscirono davvero di testa, il che non va per niente bene quando sei in mezzo a una folla di ragazzini armati di spade. Nel frattempo Blanche ci aveva scattato delle foto e il flash della sua Nikon aveva causato effetti stroboscopici che avevano contribuito solo ad aumentare il panico. Alla fine Chirone, il direttore delle attività, era riuscito a ristabilire l'ordine. Aveva spiegato che Blanche aveva semplicemente assorbito in sé i colori circostanti, un trucco che alcuni figli di Iride sapevano fare. L'effetto monocromatico sarebbe passato e no, non saremmo morti. Aveva fulminato Blanche con lo sguardo e le aveva chiesto di scusarsi. Lei si era limitata a ringraziarci per la simpatica serata e si era allontanata nel buio con tutta calma. Per qualche ragione quell'episodio l'aveva promossa a genio artistico agli occhi di Grover e ora Annabeth faceva affidamento su di lei per ricevere aiuto. «Grazie per essere venuta», la accolse. Blanche scattò un'altra foto. «Mi hai fatto un'offerta che non potevo rifiutare. Andiamo a cercare mammina cara». Guardai Annabeth chiedendomi cosa le avesse promesso e se implicava la vendita dei nostri organi interni. Lei si limitò a fare un sorrisetto furbo. Poi seguimmo Blanche nel caos del mercato. Vista la giornata mite e soleggiata, la gente si era riversata fuori a frotte. Gli acquirenti giravano tra le bancarelle, rovistando traccesti di carciofi e frutti di bosco. Per tutta la piazza aleggiava un odore di pomodori caldi e cipolle. Gli ambulanti vendevano latte, uova, formaggio e miele provenienti da fattorie locali. Era surreale vedere tutti quei prodotti freschi di campagna in piena Manhattan, ma suppongo facesse parte del fascino. Il naso di Grover fremeva ogni volta che passava vicino alle verdure. Fui contento che non fosse un figlio di Hermes, perché temevo che gli venisse la tentazione di mettersi in tasca qualche rapa gialla. Si trascinava accanto a Blanche, cercando di coinvolgerla in una conversazione. Ogni tanto si piazzava nel suo campo visivo, posando in diverse angolazioni teatrali o allungandosi sui banchi di verdure come un cantante swing su un pianoforte. Lei lo ignorava, fermandosi di tanto in tanto a fotografare un tarassaco appassito o un'ambrosia cresciuta tra le fessure del marciapiede. «Rilassati», mi esortò Annabeth. «Stai digrignando i denti». «Non è vero», ribattei, anche se lo stavo facendo. Mi prese la mano. «Goditi la giornata. Forse più tardi ti permetterò di offrirmi il pranzo». «Non mi fa sentire meglio», dissi, anche se effettivamente mi fece sentire meglio. A mano a mano che ci addentravamo nel mercato, le bancarelle iniziavano a offrire prodotti che non avevano molto a che fare con le fattorie. Un artigiano vendeva borse, portafogli e foderi per coltelli fatti a mano. C'è così gran richiesta di foderi per coltelli nei quartieri alti? Un saponaio offriva saponette cruelty free, perché niente, è peggio che fare la doccia con un sapone crudele. Un produttore di incenso aveva esposto mille tipi diversi di miscele profumate da bruciare. Stavo iniziando a capire perché una dea potesse voler bazzicare un mercato agricolo. Gli dei amano le offerte bruciate. Possono vivere di fragranze come io posso vivere della salsa a sette strati di mia madre. E quel mercato era un tripudio di odori. Blanche si fermò di botto. «Ok, ecco mia madre», indicò in fondo a un corridoio, oltre un venditore di asciugamani di lino e un espositore di appendivasi in macramè. E lì c'era Iride. Non era affatto come la ricordavo, ma la cosa non mi sorprese. Gli dei cambiano aspetto come i mortali si cambiano d'abito. Quel giorno era una donna paffuta con l'aria da nonna, i lunghi capelli grigi e un morbido vestito hawaiano viola e bianco decorato con... degli iris. Qualcosa in lei mi fece rizzare i peli sulle braccia. Il mio istinto di sopravvivenza gridava «Scappa, ti offrirà del musli!». Il suo stand era abbellito da migliaia di cristalli, alcuni appesi a corde ricamate, altri incastonati in supporti di bronzo. Riflettevano la luce del sole, dardeggiando un tripudio di arcobaleni per tutto il mercato. Li immaginai carichi di messaggi Iride fusi in un caotico guazzabuglio, ad assegnare imprese sbagliate a semi dei sbagliati, il che in effetti spiegherebbe tante cose. Forse tutta la mia carriera era dipesa da una serie di messaggi Iride partiti per sbaglio. «Rilassatevi e lasciate parlare me», ci consigliò Blanche. «Fintanto che ho un bel aspetto», fece Grover, girando il viso verso il sole nella sua miglior rappresentazione di un fiore di campo morente. Blanche non lo degnò di uno sguardo, marciò verso la bancarella con noi nella sua scia. A mano a mano che ci avvicinavamo, gli occhi di Iride si illuminavano. «Mia cara, che bella sorpresa! E hai portato degli amici!» Pronunciò la parola amici, quasi che abbinata a Blanche fosse un assoluto controsenso, come sandali arcobaleno. «Sono compagni del campo mezzosangue», spiegò Blanche. «Volevano conoscerti». Iride ci squadrò. Aveva gli occhi multicolori, come le chiazze d'olio sull'asfalto bagnato. Sorrisi e cercai di assumere un'espressione amichevole, ma non riuscii a stabilire se mi avesse riconosciuto. «Che meraviglia», disse la dea senza sbilanciarsi. Esaminando la figlia, piegò gli angoli della bocca verso il basso. «E vedo che vesti ancora di nero. Non ti è piaciuta la sciarpa che ti ho mandato?» «Sì, era fantastica», disse Blanche. «I colibri rosa erano totalmente nel mio stile». Iride fece una smorfia. «E suppongo», indicò con un cenno la fotocamera, «suppongo che tu non sia passata alle pellicole a colori». «Sono meglio in bianco e nero», tagliò Corto Blanche. Iride aveva l'aria di chi cerca di sorridere mentre gli viene conficcato un pugnale nella pancia. «Capisco». Cominciavo a dubitare del piano di Annabeth. Probabilmente stavamo per essere coinvolti in un dramma madre-figlia che non avrebbe aiutato affatto la nostra impresa. Immaginai di essere maledetto da Iride e di lasciare il mercato con i capelli irreversibilmente azzurri e la pelle decorata di colibri rosa. «Comunque hai detto che saresti stata felice di farmi un favore», continuò Blanche. Iride spalancò gli occhi. «Ma certo, mia cara! Un vestito nuovo? Una macchina fotografica più performante? Un viaggio per vedere l'aurora boreale?» La dea sembrava stranamente ansiosa di compiacerla. Mi venne da pensare che Blanche avesse trovato una nuova strategia per attirare l'attenzione di un genitore divino. La totale indifferenza. A Iride faceva male vedere la figlia così ossessionata dalla monocromia. «Mi chiesi se quell'approccio potesse funzionare anche per me. Se mi fossi trasferito nel deserto del Sahara e avessi simulato un odio profondo per l'acqua, Poseidone avrebbe cominciato a spedirmi regali? Acquari, piscine o puscoli per crociere oceaniche? No, probabilmente no». «Voglio che tu li ascolti», annunciò Blanche agitando un pollice nella nostra direzione. «Sembrerà che ti accusino di furto». Iride diventò pericolosamente immobile. «Come scusa? Invece vogliono soltanto delle informazioni. Non incenerirli, non maledirli. Prova solo ad aiutarli, ok? Questo è il favore». Iride ci studiò con più attenzione. Cercai di sembrare indegno di essere incenerito. Alla fine sospirò. «Molto bene, cara. Lo faccio per te». La sua voce assunse un tono più dolce, leggermente supplice. «E poi forse potremmo fare qualcosa insieme, scorpacciata di Vandavision?» «Suona alla grande, ma ti messaggio». Blanche si rivolse ad Annabeth. «Io me ne vado allora, buona fortuna, e ricordati il nostro accordo». Annabeth a noi. «Grover ci sarà». «Ci sarò dove?» belò lui. «Nel mio studio». Blanche gli porse un biglietto da visita. «La prossima settimana, per una serie di scatti in posa. È da una vita che tento di beccarti, ma tu fai il difficile». Grover rimase a bocca così aperta, che la mandibola arrivò praticamente sottoterra. Blanche si allontanò a passo pigro tra la gente, senza dubbio alla ricerca di erbe infestanti moribonde e topi morti da immortalare con il suo obiettivo. «Ebbene, sentiamo cosa pensate io abbia rubato», ci disse Iride. «E farò del mio meglio per collaborare o almeno per non uccidere».